Una buonissima serata ai telespettatori di Seila TV News. Il notiziario apre con la cronaca, purtroppo cronaca nera, ancora due vittime in montagna. Due escursionisti sono stati trovati morti questa mattina. Il primo all'alba a Daverara, il secondo a Val Bondione, in zona Pizzore Castello. A Daverara ha perso la vita Pierangelo Personeni, di 65 anni. Residente a Sorisole, è uscito di buon mattino per cercare funghi nel bosco. Stava percorrendo la strada che porta da Val Moresca al rifugio Cantendoldo, a circa 1.100 metri di quota, quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. A chiamare i soccorsi un'altra persona che camminava sullo stesso percorso e che lo ha trovato a terra. Sul posto, sette tecnici del soccorso alpino e i carabinieri, insieme all'equip medica giunta in elisoccorso da Sondrio. I medici non hanno però potuto far altro che constatare il decesso. La salma è stata composta nella camera mortuaria di Averara. Qualche ora più tardi è stato trovato senza vita il corpo del 52enne che da ieri non dava più notizie di sé. In partenza aveva detto ai familiari che si sarebbe diretto verso la cresta dei corni, ma non vedendolo rientrare, gli stessi familiari hanno allertato i soccorsi che subito avevano fatto scattare le ricerche. Queste si sono fermate ieri sera al calar del buio per riprendere oggi, quando con l'elicottero e con un particolare dispositivo che rintraccia le persone disperse attraverso il segnale del cellulare, il corpo è stato trovato esanime. Un uomo di 78 anni è morto questo pomeriggio a Filago mentre stava tagliando l'erba del giardino di casa. Un malore fulminante non gli ha dato scampo. Tutto è avvenuto in via Rodi a dare l'allarme alla moglie che non lo vedeva rientrare. È andata ad accertarsi che stesse bene, ma l'ha trovato riverso a terra. Sul posto sono giunte due ambulanze e l'auto medica, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Ancora cronaca, triste storia, quella che arriva da Boccaleone. Un uomo di 57 anni è stato ritrovato morto all'interno del suo appartamento, Aler, in via Rovelli. L'allarme è stato dato dai vicini che da qualche giorno non avevano notizie dell'uomo. Il corpo è stato trovato dalla polizia locale e dai tecnici di ATS Bergamo nella giornata di ieri, ma la morte sembra che risalga a venerdì. Sul posto anche la calappia cani di Treviglio per tenere a bada i due cani che vivevano con la vittima, i quali rendevano complicato l'accesso. Un'ispezione in un ristorante cinese di seriate compiuta dai carabinieri di seriate da ATS Bergamo e dalla polizia locale e dall'ufficio tecnico ha portato ad una scoperta inquietante. Sopra il locale, all'interno del quale sono stati rilevati numerosi problemi igienico-sanitari, si trovavano dei veri e propri loculi da 4 metri quadrati dove erano costretti a vivere i dipendenti del ristorante stesso. Le condizioni offerte a loro erano massacranti. 14 ore di lavoro al giorno per, pensate, soli 2 euro all'ora. Titolare, scattate le manette e ci sarebbe mancato anche il contrario. Parliamo di un'altra vittima, purtroppo sulle strade, sono tragedie sicuramente umane, ma hanno anche dei costi sociali. Sabato pomeriggio, sulle strade della nostra provincia, un'altra persona ha perso la vita in un incidente stradale. Si chiamava Alessandro Musitelli, era originario della Val Brembilla ed è stato vittima di un violento impatto fatale ad Almeh contro un'automobile. Gli ultimi dati dell'ACI relativi al 2020 dicono che nella Bergamasca sono stati 26 gli incidenti mortali e in questo 2022 la media, purtroppo, sembra essere in linea, considerando che l'anno di rilevazione era stato segnato dai svariati lockdown. Una tragedia che, sottolinea lo stesso Automobile Club italiano, porta con sé anche costi sociali enormi che si aggiungono ai rispettivi dolori delle famiglie delle vittime e a quello delle persone sopravvissute, ovviamente impagabili. Secondo ACI e Istat, il costo sociale della Bergamasca è di oltre 142 euro per singolo residente, per un totale di quasi 160 milioni di euro. Un contributo purtroppo importante al miliardo e otto di costi su scala regionale. Tornando al quadro provinciale, nel 2020 gli incidenti furono poco più di 1800, con oltre 2300 feriti. Da qui i costi sociali, che si suddividono in molteplici categorie. Si va dai primi soccorsi all'ospedalizzazione, dalla riabilitazione ai costi per i rilievi delle forze dell'ordine e poi i danni materiali e morali alle persone, più quelli ai mezzi, agli edifici e alle strade, per finire poi con i costi processuali. Parliamo ora di scuola, rientro a settembre, torneranno in classe anche i professori che non si sono sottoposti al vaccino. Anno scolastico nuovo, vita nuova. Anche per i più di 2000 docenti tecnici bidelli che avevano detto no al vaccino e che da settembre torneranno a contatto con gli studenti. La stretta per il personale Novax era in realtà già parzialmente caduta a fine marzo, quando era stato reintegrato in funzioni diverse da quelle ordinarie. Adesso cadono anche le ultime distinzioni e si ritorna per tutti alla normalità. Una scelta che non desta particolare clamore presso i genitori bergamaschi, in virtù dell'alta adesione degli adolescenti alla campagna vaccinale tra l'83 e il 90%, con un numero minore di vaccinati invece tra i più piccoli. Solo il 40% dei bambini tra i 5 e gli 11 anni ha infatti fatto una vaccinazione. Forse sono ancora i bambini un po' più piccoli che magari non sono così vaccinati ad avere questo disco, però i nostri bambini hanno frequentato centri estivi, hanno frequentato cinema, palestre, concerti e quindi non la vedo una cosa così impattante. E ora i dati, i dati delle ultime 24 ore che riguardano il contagio da coronavirus. Vedete pochissimi tamponi effettuati, come al solito la domenica non arrivano a 8.000, 13,1 quelli risultati positivi. A Bergamo solo 94 nuovi contagi, terapia intensiva meno 1 i ricoveri e più 8 invece nelle corsie ordinari. Quello che non cala mai è il numero dei decessi, ancora alto, sono 16 nelle ultime 24 ore. Questa settimana festeggeremo il patrono di Bergamo, Sant'Alessandro. Vediamo insieme tutti gli eventi previsti. Teatro, cultura e religione sono i pilastri della festa di Sant'Alessandro che anche quest'anno Bergamo celebra in onore del suo patrono. L'itinerario costruito intorno al tema della pace prenderà avvio giovedì 25 agosto con il concerto delle campane, il famoso tripudio di suoni e musica che dalle 10 alle 12 e un quarto toccherà i campanili di Città Alta e Bassa. Venerdì 26 agosto invece sarà dedicato alla spiritualità con la Santa Messa Solenne presso la Basilica di Sant'Alessandro in Colonna e la possibilità, per i più curiosi, di visitare il cantiere di restauro del coro intarsiato di Lotto e Capoferri. Alle ore 21, subito dopo la messa, il monastero di Astino si riempirà delle voci del coro mentre alle 22 e 30 il cielo di Bergamo si colorerà con i bellissimi fuochi d'artificio. Il 27 agosto invece i cittadini potranno respirare arte e spettacolo a pieni polmoni tra le mostre degli artisti e dei giovani degli oratori della città. La visita ai luoghi storici principali di Bergamo e di Gamec e Biblioteca Civica Angelo Mai aperte in via straordinaria per l'occasione e la lettura scenica di Addio alle armi di Ernest Hemingway presso la cattedrale di Sant'Alessandro. Un itinerario da cui non possono mancare i gruppi folcloristici che si esibiranno in uno spettacolo in Piazza Vecchia venerdì 26 e le bancarelle lungo il sentierone. Gioia e diletto dei bergamaschi. Ora ci fermiamo per qualche consiglio per gli acquisti ci ritroveremo nella seconda parte con tante notizie che riguardano l'Atalanta. Eccoci nella seconda parte di Sela TV News dicevo un ampio sguardo sul mondo Atalanta iniziamo con il pareggio, il buon pareggio con la capitale, con il campione d'Italia del Milan sentiamo cosa ha detto Gasperini. Atalanta che pareggia una partita molto combattuta contro i campioni d'Italia Gasperini a fine match non nasconde la soddisfazione per come si espressa la squadra. perché abbiamo incontrato comunque una squadra forte con tantissime risorse anche poi dopo che ho messo in campo anche nel secondo tempo però i ragazzi sono stati veramente incomiabili a un certo punto incominciavamo a saporare anche la possibilità di vincere la gara c'era stata anche qualche bella ripartenza che poteva generare anche il secondo gol poi dopo il pareggio ha ristabilito un risultato che tutto insomma è giusto. I ragazzi non hanno mai sbagliato, danno la massima affidabilità sotto questo aspetto poi dopo chiaro che le partite sono diverse però soprattutto in questo tipo di gare noi siamo sempre stati insomma precisi. 20.000 a Ghevis per ammirare un'Atalanta concreta sotto certi versi molto diversa da pochi mesi fa soprattutto competitiva rispetto a molte partite interne dello scorso campionato. La Dea c'è? Sì c'è perché prima di quella partita parlavamo che dobbiamo vedere dove siamo contro il campione d'Italia, contro in questo momento squadra più forte e penso che abbiamo dimostrato che ci siamo che ancora questa squadra può dare soddisfazioni a questa gente e niente dobbiamo essere soddisfatti perché è un bel punto. A volte siamo anche delle qualità dell'avversario, siamo dovuti a difendersi però quello abbiamo fatto molto bene e poi abbiamo fatto qualche ripartenza, qualche occasione e niente anche quello potrebbe essere una strategia per alcune partite e abbiamo dimostrato che possiamo anche giocare in questo modo. sul podio dei migliori Malinowski, Zapata e Musso che difende il risultato devono fare molto di più Mele e soprattutto Coop Miners la stoffa l'olandese l'ha da vendere. Abbiamo scritto Gasperini contento a metà nel dopo partita ce l'aveva soprattutto con la stampa ma non solo. La statistica parla chiaro, nella storia dell'Atalanta solo sette volte in cent'anni si è fatto meglio dello scorso campionato dove i nerazzurri sono arrivati con un degnissimo ottavo posto. Prima campionati stellari e fuori da ogni sogno di qualsiasi atalantino di ogni generazione. Se qualcuno avesse parlato di Champions League, Liverpool, Paris Saint-Germain o Real Madrid solamente sette anni fa sarebbe stato invitato all'alcol test o più bonariamente liquidato con un bergamasco Cosa Conte Seu Baler merito di Antonio Percassi e la sua società merito soprattutto di Giampiero Gasperini detto Remida le ha azzeccate tutte ma proprio tutte per non offendere la sua vulnerabile sensibilità volentieri cambiamo verbo le ha studiate tutte e con il lavoro, le strategie, la competenza e diciamolo una discreta dose di fortuna ha reso l'Atalanta e Bergamo un'oasi di felicità Qualcuno si è abituato a volare alto tra i tifosi, pochi dice il gasp e anche tra i giornalisti, troppi dice sempre il mister Non è facile tornare a guidare una Golf Diesel dopo aver provato la Ferrari questo è certo, secondo il tecnico di Grugliasco qualcuno è duro di comprendonio proprio non ce la fa a capire Nel dopo partita con il Milan l'invettiva contro la stampa locale rea di dipingere un lutto generale che non c'è nei fatti ha aperto una voragine dalla quale la storia della comunicazione insegna che nessuno ci guadagnerà le crete pian piano si apriranno colmate in qualche caso dai risultati ma il dado è tratto il mister ha parlato di moduli, attaccanti e desideri e nella foga ha ribadito più volte che è stanco e scocciato di ripetere le solite cose a chi non capisce un'unica domanda, mister con tutta la tranquillità del mondo perché in fondo è solo calcio ma l'attaccante dei sogni a chi l'ha chiesto? A per Cassi o ad un giornalista un po' cocciuto? Sicuramente l'avrà chiesto a mister Paiuca che ieri ha parlato allo stadio Non ci sono tifosi migliori di quegli atalantini una partita molto dura con il tifo davvero grande un ottimo lavoro dei Gasperini sono davvero orgoglioso di essere qui mi piace l'attitudine di attaccare che hanno i giocatori sempre correndo molto dando alla squadra il 110% noi siamo qui per migliorare ed investire la famiglia per Cassi gestisce in modo ottimale e abbiamo un grande allenatore che ha un feeling speciale con i giocatori abbiamo fatto una buonissima partenza E ora purtroppo le notizie le brutte notizie non smettono di arrivare dall'infermeria ieri si sono accorti tutti tranne l'arbitro di cosa era successo a Berat Jim City Atalanta Bergamasco Calcio dal proprio sito ufficiale informa che Jim City è stato sottoposto ad accertamenti clinico strumentali che hanno evidenziato purtroppo una frattura composta del terzo medio del perone sinistro e ha iniziato da subito le cure resta da stabilire quanto dovrà rimanere fuori il difensore della nostra Dea E ora spazio al tempo delle prossime ore con Trebi Meteo Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trebi Meteo un'area di bassa pressione tra l'Adriatico e i Balcani apporta dell'instabilità al sud Italia nella giornata di martedì con fenomeni diffusi soleggiato invece al centro nord eccetto qualche rovescio localmente tra Lazio e Abruzzo in dettaglio in Lombardia ci attende una giornata di martedì all'insegna del bel tempo per la persistenza dell'alta pressione con cieli sereni o poco nuvolosi e clima caldo ma senza eccessi spostiamo nel dettaglio la nostra attenzione sulla situazione attesa sulla provincia di Bergamo infatti la giornata di martedì trascorrerà come vi dicevo all'insegna del bel tempo sulla provincia con cieli in prevalenza sereni temperature massime nella norma con valori tra i 28 e i 32 gradi poi per quanto riguarda la giornata di mercoledì le temperature massime resteranno per lo più stazionari il tutto sempre in un contesto ampiamente soleggiato con solo qualche annuvolamento innocuo di passaggio e diamo un accenno anche alla tendenza attesa per le prossime giornate vedremo solo un po' di variabilità possibile tra sabato e domenica ma la tendenza come sempre è ancora da confermare per cui per maggiori dettagli restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo non ci sono altre notizie se non annunciare che questa sera ritorna il commento sull'Atalanta sulla partita del giorno dopo con Sela Dea di Marco Bucarelli e dei suoi ospiti io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buonissima serata Grazie a tutti